Musica Si è spento ai Serni a Nino Santoro, storico presidente e fondatore della cooperativa Lai. Fidanzati i Sernini morti in un incidente in moto a Barrea, il caso non sarà archiviato. Un uomo su un balcone che sta andando a fuoco, attimi di paura a Venafro. Isernia, oltre a novantenne, riceve fattura di quasi 2000 euro per un consumo d'acqua mai avvenuto. Venafro, dopo 17 anni, cambio al vertice del Parco regionale dell'Olivo, nominato Fabio Iannucci. Salve e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di TV Molise. Si è spento ai Serni a nelle ultime ore Nino Santoro, storico presidente e fondatore della cooperativa Lai, impegnata nell'inserimento sociale e lavorativo dei ragazzi con disabilità. Una notizia che ha destato sconcerto nel capoluogo di provincia e in tutta la regione. Isernia ha perso un uomo buono che aveva dedicato la sua esistenza ad aiutare il prossimo, soprattutto i disabili e le loro famiglie. È morto Nino Santoro, 68 anni, presidente della Feder Solidarietà Molise e promotore e presidente storico della Lai, acronimo di Lavoro Anch'io, la cooperativa che da anni dà lavoro ai ragazzi disabili. Una sua iniziativa risalente a più di 20 anni fa, quando diede vita al progetto insieme ad altri volontari ed operatori sociali. Un esperimento che poi si rivelerà pienamente riuscito. Nipote dell'ex presidente della regione, Enrico, Nino aveva invece deciso di indirizzare il suo impegno nel sociale. Tutta la città piange la perdita di un uomo capace, con le sue iniziative di fare davvero la differenza nel mondo del sostegno e più fragili. Un fiume in piena ai messaggi di cordoglio di istituzioni, politici e semplici cittadini che hanno conosciuto e apprezzato la sua umanità, il carisma e la sua tenacia. Tra i tanti che hanno espresso il loro pensiero sui social, il ringraziamento del sindaco di Isernia. Con Nino va via un pezzo di Isernia, ma per sempre resterà la traccia del suo profondo impegno in favore del prossimo, ha scritto Piero Castrataro, determinante il suo contributo nella crescita e nello sviluppo di una delle più belle realtà cittadine, simbolo di cooperazione, amicizia, lavoro e solidarietà. La malattia lo ha strappato troppo presto alla vita, ma il suo ricordo rimarrà indelebile. Sempre dalla parte dei più fragili e degli ultimi, Santoro è stato da esempio per tutti, ha detto il presidente della provincia, Daniele Saia. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria ad Agostino. I funerali si terranno domani alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Continuiamo con la cronaca. Il caso dei fidanzati Isernini morti in un incidente in moto a Barea non sarà archiviato, lo ha deciso il procuratore generale dell'Aquila. I dettagli con Antonio Leone. L'inchiesta sulla tragica morte di Maurizio Tortola e Rossana di Noia non sarà archiviata. Questa è la decisione del procuratore generale della Corte d'Appello dell'Aquila, che ha preso in carico il fascicolo relativo all'obicidio stradale in seguito all'opposizione presentata dall'avvocato Marco Bevilacqua del Foro di Chieti, legale delle famiglie delle vittime. Bevilacqua ha chiesto che vengano effettuate nuove indagini su quello scontro fatale avvenuto il 4 luglio 2021 lungo la statale 83 Marsicana nel territorio di Barrea. In quel tragico giorno la moto su cui viaggiavano i due Sernini di 39 e 32 anni ha impattato frontalmente con un Audi A4 guidata da Antonio Di Rienzo, 49enne di Campobasso. Entrambi i giovani persero la vita sul colpo, come confermato dall'autopsia eseguita dal medico legale Ildo Polidoro. La procura di Sulmona nei mesi scorsi aveva emesso un avviso di garanzia nei confronti del conducente dell'Audi per poi richiedere l'archiviazione del caso al GIP. Secondo il sostituto procuratore Stefano Iafolla, non ci sono ragionevoli previsioni di condanna a carica o dell'indagato. Tuttavia i familiari delle vittime hanno contestato questa conclusione opponendosi alla chiusura del caso. La decisione ora passa alla procura aquilana che potrebbe anche disporre ulteriori accertamenti. Si dovrà stabilire se la tragica morte dei due giovani sia stata il risultato di una fatalità inevitabile o se l'incidente poteva essere evitato. Una domanda che da oltre tre anni tormenta le famiglie dei due Sernini in attesa di verità e giustizia. Questa mattina un incidente stradale alle porte di Campobasso all'uscita della Galleria Alama Bianca. Tre le auto coinvolte in un tamponamento a catena. Il bilancio è di un ferito che è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti prontamente sul posto. La ricostruzione della dinamica dell'incidente spetterà ora alle forze dell'ordine. Un uomo su un balcone che sta andando a fuoco è il pauroso spettacolo a cui hanno assistito stamane alcuni residenti del centro di Venafro. Fortunatamente il ruogo è stato spento velocemente e con danni contenuti. Domenico Marzocchella. Venafro, intorno alle 10 di stamane, qualcosa sta bruciando su un balcone. Dalle finestre prossime alla palazzina, nel quartiere di Via Maiella, i vicini spaventati vedono un uomo uscito precipitosamente sul terrazzo gettare acqua su un vaso di plastica diventato una torcia. Ad innescarla, probabilmente, secondo quanto appureranno i caschi rossi di lì a poco, una cicca di sigaretta rimasta accesa. Sul muro la macchia nera della combustione. Mentre parliamo, i vigi del fuoco giunti da Isernia stanno ancora effettuando il sopralluogo. Quando sono arrivati sul posto con autopompa e autoscala, in realtà il piccolo ruogo era già spento. Ma sulle prime, in attesa di verificare con esattezza l'accaduto e le condizioni del protagonista, qualche apprezzione c'è stata. Nessuna risposta al citofono. Il caposquadra dei pompieri scavalca e studia un modo più o meno acrobatico per entrare nell'appartamento. Mentre i colleghi stanno predisponendo la scala, l'uomo all'interno, sorpreso da quello che gli sarà sembrato uno strano trambusto, apre la porta di casa. I vigili sul balcone li abbiamo visti. Il sopralluogo per constatare il danneggiamento di qualche metro quadro del cappotto esterno della parete e di poco altro dura una decina di minuti. Insomma, alla fine il danno è stato contenuto, ma come si dice in questi casi, mentre i vigili del fuoco stanno andando via, poteva andare peggio. E da Venafro ci spostiamo a Esernia per la vicenda di un ultra novantenne che ha ricevuto una fattura di quasi 2.000 euro per un consumo d'acqua mai avvenuto su un terreno agricolo abbandonato da oltre 30 anni. Una bolletta da quasi 2.000 euro per un rudere abbandonato dal 1990 situato alle porte di Esernia. La proprietaria del terreno agricolo, oggi ultra novantenne, ha ereditato l'appezzamento dopo che il padre, costretto a letto da una malattia e poi deceduto anni fa, lo aveva lasciato incolto. Da oltre 30 anni nessuno ha più messo piede su quel terreno, divenuto inaccessibile, ricoperto dalla vegetazione. Nonostante ciò, la signora ha continuato a pagare regolarmente le bollette, circa 30 euro all'anno, come spese fisse per il contatore, dato che non vi era alcun consumo d'acqua. Eppure nei giorni scorsi la Grim, la società che gestisce le risorse idriche in Molise, le ha inviato una fattura di ben 1.879 euro per 691 metri cubi d'acqua, in realtà mai consumati. A peggiorare la situazione, la tariffa applicata è stata quella commerciale artigianale, con un costo di 60 centesimi al metro cubo invece della tariffa per uso agricolo. Sulla bollette si attesta che un letturista si sarebbe recato sul posto per leggere il contatore, un'operazione apparentemente impossibile, visto che il capanno in cui si trova il dispositivo è ormai nascosto da rovi e piante spontanee in una zona abbandonata da decenni, scossa dalla bolletta. L'anziana ha contattato i familiari che hanno già chiesto un incontro con il personale della Grim per fare chiarezza. Al di là di questo caso, in queste settimane molti cittadini di Isernia hanno ricevuto bollette idriche con aumenti significativi rispetto agli anni precedenti. Il sistema perequativo, che dovrebbe distribuire equamente i costi in base ai consumi, sembra ora seguire logiche più simili a quelle delle grandi città, un caso emblematico di una gestione della risorsa idrica che in Regione ha notevoli difficoltà con molti comuni costretti a fare conti da mesi con un razionamento dell'acqua, soprattutto negli orari notturni. È partita anche in Molise la campagna vaccinale anti-influenzale e Covid-19. Il piano nazionale mira a raggiungere una copertura del 75% tra i gruppi a rischio. Sentiamo Francesco Adamo. È iniziata anche in Molise la campagna vaccinale anti-influenzale Covid-19. Il responsabile del Dipartimento Prevenzione sottolinea la vaccinazione è fondamentale e soprattutto per le persone più fragili. La vaccinazione deve essere fatta soprattutto ai soggetti che hanno delle affezioni patologiche, quali cardiopatici, soggetti che hanno un'insufficienza renale, nefropatici, soggetti che hanno delle patologie oncologiche e poi naturalmente vanno fatte anche a soggetti che non sono a rischio per patologie ma a rischio per lavoro. Per esempio gli operatori sanitari che sono in ospedale, che si devono immunizzare perché sono a contatto con i fragili, oppure gli allevatori, i veterinari, i donatori di sangue, tutti quelli che sono addetti ai servizi di pubblico interesse hanno necessità di effettuare la vaccinazione. Noi siamo a disposizione e supportiamo i medici di medicina generale perché chi è in parte attiva a questa campagna vaccinale sono i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Oltre 70.000 richieste di dosi vaccinali. Abbiamo ricevuto più di 70.000 richieste di dosi di vaccino. Naturalmente il vaccino richiesto è richiesto in base alla popolazione elegibile presente sul territorio molisano e cercheremo di raggiungere quelli che sono gli obiettivi dettati dal Ministero secondo il piano nazionale vaccinazione e cioè arrivare al minimo del 75% di copertura per far sì che siano protetti anche quei soggetti che non possono essere vaccinati e riusciamo così a debellare questa malattia che sembra banale ma non è così perché pensate un soggetto cardiopatico anziano che ha un'influenza quali sono i costi? I costi in termini di morbosità, di mortalità, di ricovero in ospedale, quindi costi anche di tipo sociale. Rimaniamo sulla sanità con la questione dei fondi per la non autosufficienza e la difficoltà nell'ottenere la certificazione necessaria entro la scadenza fissata per la presentazione delle domande. Al prossimo 31 ottobre la consigliera delegata alle politiche sociali Stefania Passarelli assieme ai coordinatori degli ATS ha individuato la soluzione. Possono infatti essere presentate le certificazioni scadute ma dovranno essere inviate le nuove entro la fine di aprile appena l'esclusione dei benefici. Intanto il presidente Roberti sollecita l'ASREM all'attivazione di slot dedicati a tali tipologie di visite per smaltire le liste d'attesa. A San Salvo i carabinieri di Termo li hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne accusato di estorsione e furto con strappo. Accertate le sue responsabilità, l'uomo è finito agli arresti domiciliari. Molisano, vittima di un furto a San Salvo, un 31enne gli ha rubato il borsello contenente 100 euro in contanti utilizzando in seguito anche la carta Bancomat per fare shopping e poi non contento di quanto aveva già fatto, ha chiesto pure dei soldi al malcapitato molisano per la restituzione del bottino. Le indagini sono scattate immediatamente dopo la denuncia presentata dalla vittima, un uomo di Termoli. Le forze dell'ordine, dopo aver indagato, hanno rapidamente identificato il ladro che aveva rubato il borsello che conteneva anche documenti ed effetti personali del Termolese. Il malfattore, dopo aver commesso il furto, si era dato alla fuga e poi aveva utilizzato il Bancomat per effettuare degli acquisti. Il giorno dopo ha deciso di contattare la sua vittima, chiedendo, in cambio della restituzione del borsello, altri 40 euro. Quello che probabilmente il ladro non si aspettava era che l'uomo aveva già allertato i carabinieri che, una volta assistito all'incontro tra i due, sono intervenuti e hanno bloccato il 31enne, trovandolo in possesso della somma richiesta per la restituzione dell'area furtiva. Una volta accertate le sue responsabilità, il malvivente è finito agli arresti domiciliari. Su invito di Carla Crafaldo, Patriciello ha partecipato al raduno delle mongolfiere a Fragneto Monforte, un evento speciale che ha attirato migliaia di visitatori. L'eurodeputato ha espresso il suo apprezzamento per la manifestazione e il suo impegno per lo sviluppo di quella parte di Sannio. Dopo 17 anni di presidenza di Emilio Pesino, la regione nomina Fabio Iannucci al vertice del Parco Regionale dell'Olivo di Venafro e lui dice punteremo sui fondi del PNRR per lo sviluppo del parco. Nel Parco Regionale dell'Olivo di Venafro, by night, siamo con Fabio Iannucci che da qualche ora ne è il neopresidente. 48 anni impegnato nel sociale, a lui si deve la fondazione della Onlus Stop al Bullismo ODV, nella politica locale e consigliere comunale al secondo mandato a macchia di Sernia, da sempre molto legato a Venafro e da oggi necessariamente lo sarà ancora di più. Il decreto di nomina reca la firma del Presidente della Giunta regionale Francesco Roberti, il mandato di durata quadriennale. Il mio primo passo è quello di contattare l'ufficio scolastico regionale e inserire delle uscite didattiche all'interno del parco perché la storia va difesa, va raccontata ma va anche valorizzata. Il turismo potrebbe diventare una risorsa per il parco? Sì, il turismo ha grandi potenzialità. È logico che non possiamo permetterci un turismo di massa perché uno non siamo pronti, però quel turismo di nicchia siamo capaci di portarlo all'interno del parco dell'olivo di Venafro. Con quali fondi? Questa è un'altra strategia che vorrei inserire nella mia programmazione come Presidente. Subito vorrei intercettare i fondi del PNRR attraverso bandi regionali, bandi nazionali e bandi europei. Emilio Pesino, il presidente che è stato in carica fin qui per 17 anni, ha sovente lamentato una, per usare un eufemismo, non perfetta sinergia tra l'ente e la regione. Mi sono subito messo al lavoro, già ho chiamato e ci siamo sentiti con il consigliere delegato al turismo e cultura e il quale subito mi ha aperto una grandissima porta per vederci e vedere effettivamente la regione cosa può supportarci, cosa può aiutarci in questi quattro anni. Questa mattina il prefetto di Sernia, Giuseppe Montellà, è stato in visita istituzionale al comune di Venafro ad accoglierlo il sindaco Alfredo Ricci, accompagnato da una rappresentanza dell'amministrazione composta dal Presidente del Consiglio, Dario Ottaviano, dagli assessori Angela Maria Tommasone e Oscar Simeone e dal consigliere Massimo Zullo. Nel pomeriggio di ieri a Sernia ha incontrato il Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Sernia, Fabio Rea, per un colloquio conoscitivo. Convegno culturale a Sernia sul making of della rievocazione del ritorno del Papa Santo, corteo spostato a maggio per dare più attenzione alla festa del patrono. C'era Carla Marino. La vicenda storica che si cela dietro la rievocazione del ritorno del Papa Santo, al centro di un convegno dibattito che si è svolto nella sala auditorium della Curia Vescovile. Abbiamo avuto da subito l'esigenza, proprio perché è una vicenda molto complessa dal punto di vista dell'epoca storica e dei personaggi, di infarcirla di testi che raccontassero e che diffondessero quindi al pubblico quelle vicende e quei personaggi. Sono tanti, sono molto complicati. Questo è un periodo storico molto pieno, molto denso di accadimenti e la vicenda di Celestino è emblematica di questo periodo. Il Papa dell'epoca non era soltanto la guida spirituale della Chiesa. La Chiesa investiva di potere anche i re e quindi entra in un gioco che è molto più grande. La stessa rinuncia del papato di Celestino sarà sicuramente stato anche il rifiuto di tutto quell'apparato burocratico, pesante, gravoso che la Chiesa rappresentava. Ad arricchire l'evento culturale è anche la presenza di alcuni dei protagonisti che solitamente sfilano nel corteo in costume. La corrispondenza che abbiamo cercato e abbiamo voluto tra i personaggi dell'epoca e quelli di oggi in fondo era anche un'occasione per richiamare la città intorno a un tema comune alla riscoperta di una pagina della nostra storia per cui i personaggi attuali rappresentano quelli dell'epoca a cominciare dal sindaco che nella revocazione interpreta il regio governatore la frataria che come dicevo sono appunto i confratelli della fraterna ma anche l'ordine degli avvocati che fanno la parte dei giuristi il presidente dell'ordine che interpreta Andrea Di Sernia. Una rievocazione che quest'anno è stata spostata da ottobre a maggio per una motivazione ben precisa. Cercare in qualche modo di dare più lustro a quella che è la festività del Santo Patrono che insomma è inutile girarci intorno ma vediamo che più passano gli anni e più la cosa va un po' a scemare e quindi vorremmo cercare di riportarlo in auge visto che è considerato che appunto è il patrono della città di Sernia e quindi tenteremo di fare la sfilata non solo la sfilata diciamo che il tentativo sarà quello di implementare e far diventare più importante la stessa manifestazione. Siamo in chiusura al touchscreen per le notizie di questa sera dall'Italia e dall'estero il Medio Oriente in evidenza su Sky TG24 morto il capo di Hamas, Sinwar Netanyahu che dice non abbiamo finito l'arciterrorista che ha ucciso migliaia di israeliani e rapito centinaia di cittadini e è stato ucciso dai nostri eroici soldati ha detto Netanyahu il raid che ha portato alla morte del capo di Hamas è avvenuto ieri oggi il male ha subito un grave colpo ma la nostra missione non è ancora finita ha aggiunto il presidente israeliano il ministro della difesa di Israele Yoav Gallant ha detto ora Hamas si arrenda e liberi gli ostaggi il maltempo sull'Ansa in Liguria estesa e prorogata l'allerta arancione tocca anche il ponente Ligure fino alle 8 di domani la cronaca su TG24 Firenze una donna uccisa a San Casciano nel suo negozio arrestato il nipote 22enne l'allarme dato da una cliente dice TG24 il giovane si era abbaricato in un edificio poco lontano ed è stato preso dai carabinieri tema economico sulla DN Cronos la BCE taglia i tassi di 25 punti base intervento anche dopo la discesa dell'inflazione all'1,7% come confermato da Eurostat gli effetti sui mutui per le famiglie questi gli ultimi aggiornamenti per questa sera noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla QTV grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti